Annalisa, lettura veloce va bene anche per ragazzi con la disgrafia? Vabbè, la disgrafia dovrebbe essere qualcosa che è nella scrittura, non nella lettura. Per la dislessia. Annalisa, io sinceramente gliele farei provare. Gliele farei provare perché potrebbe darsi che in alcune di quelle tecniche potrebbero trovare una soluzione. In questo caso non c'è un giusto o sbagliato, fate i test, cercate di diventare dei ricercatori. La conoscenza è fatta di ricerca. Se sperate sempre che qualcuno abbia la risposta giusta per voi, siete già partendo male. Spesso e volentieri i guru, i medici, i finti guru, i santoni o gli pseudo esperti, non è che hanno la risposta pronta. Ve la fanno credere che è così. Che è vera. Ma non è mica detto. Non è mica detto che sia sempre vera. La terza causa di morte al mondo è gli errori dei medici. Quindi, sono esperti loro, hanno le lauree, fanno tutte queste robe, però sbagliano. E la gente muore. Sbagliano i medici. Ma sai quanti... Quelli, vabbè, si riconoscono perché magari la gente poi ci sta male. Ma la gente sbaglia costantemente. Te sbagliano a montare termosifone, te sbagliano a montare computer, te sbagliano un sacco di cose, sbagliano a tagliare mobile. Cioè, gli errori esistono. Ecco perché vi dico, se sapeste un po' di tutto, magari quando l'esperto vi racconta una cavolata, non ve la bevete completamente. Riuscite un attimo a chiedere maggiori informazioni o a cambiare esperto, finché trovate quello giusto. Tra l'altro, una cosa interessante, questo mi ha fatto riflettere tanto questo evento. Perché in questi mesi, mentre ero incasinato con mio padre, eccetera, che cos'è accaduto? Sapete, ogni tanto le persone, come spiegavo nel padre di tutti i video, in determinate condizioni, determinate persone ogni tanto sbroccano. Cioè sbroccano, cambiano nelle loro modalità, per cui insomma creano tutta una serie di casini. Guardatevi il padre di tutti i video. E quindi che è successo? Che sapendo che nulla accade a caso, è accaduto un evento che mi ha fatto riflettere su una tematica in particolare, che è stata proprio questa della capacità, della metaconoscenza. Cioè io per poter ottenere conoscenza, devo anche sapere come ottenerla. Perché io posso pure leggere un libro, ma non sono capace a leggere. Oppure posso leggere e non sono capace a mantenere le informazioni dentro di me. Ho perso tempo tre volte. Ho perso tempo a comprarlo, ho perso soldi, ho perso tempo a comprarlo, a leggerlo, e poi me lo devo rileggere per ricordarmelo. Oppure sono talmente tanto distratto che magari le cose importanti me le sono perse. Quindi, prendere. Prendere e apprendere. E guarda a caso, in questo periodo, sono accadute determinati eventi, perché poi, sapete, con Anaera adesso sono cambiate diverse cose, c'erano resi conto che mancavano dei contratti, quindi alcuni autori sono... E... è un po' particolare, perché probabilmente alcuni, molti di voi, avranno visto o saranno stati chiamati a seguire delle presentazioni in Italia. Di questi qua che fanno vedere, fanno i corsi di lettura veloce di memoria. Costano 1000, 1500, 2000 euro, una specie di network. Sono tecniche che esistono da 30 anni. 30 anni. 30 anni sono tecniche che dovrebbero essere insegnate a scuola. In realtà, a scuola vi insegnano fino a un certo punto, perché dopo non sarebbe conveniente che iniziereste a imparare troppo velocemente, diventereste un problema. Quindi, ricordate, la scuola vuole che voi non apprendiate. Non a caso, la maggior parte di voi non si ricorderà quasi nulla di quello che ha imparato a scuola. Quasi nulla. Cioè, se io vi chiedo che cos'è un cumulo nembo, non so se ve lo ricordate. Se vi chiedo la capitale del Pakistan, forse non ve la ricordate. E tantissime altre cose. Buona parte degli studi fatti a scuola e all'università si fanno in funzione solo dell'esame. Dopo l'esame si dimenticano. Se ci sono dei laureati tra di voi, ditemi se oggi riuscireste a rifare gli stessi esami di quelli che avete preso, magari 28, 30, quello che è, nella stessa maniera. Se vi ricordate tutto. Nella maggior parte dei casi no. No, perché la mente ha studiato in funzione dell'esame, non in funzione della conoscenza. Ecco, quel tipo di conoscenza non serve a niente. Quella conoscenza fatta in funzione di un esame non serve assolutamente a niente, perché non vi rimane dentro. Se invece la fate per passione e per vostra ricerca personale, allora sì. Solo che anche lì, per poter conoscere bene, per poter apprendere, per poter prendere il meglio, il succo da determinati libri, corsi, quello che sia, bisogna sapere come si fa. Bisogna sapere come si fa. Non solo, vi dicevo, le tecniche di lettura veloce, esistono a 30 anni, le trovate ovunque. Eppure queste robe non vengono insegnate a scuola. Non solo, ma sono tecniche vecchie. Vecchie. Prima della conoscenza PNL, prima della... Prima della... Di tutte le neuroscienze, prima delle nuove tecnologie. Quindi, che cosa... Qual è stato il regalo che mi ha fatto l'universo? Mi ha fatto ragionare. Ok, allora il corso di lettura veloce dobbiamo togliere da una era. Perfetto. Però, cacchio, è una base. Cioè, stiamo parlando della lettura. È la base della conoscenza. Come puoi conoscere se non sei capace a leggere? Ma non leggere come vanno insegnato a scuola. Leggere. Cioè, nel senso, leggere un libro al giorno. O un libro ogni due giorni. Cioè, vuol dire che non stai lì a leggere a una velocità ridicola dove non ti ricordi niente. Ma leggi a manetta e ti ricordi tutto. E ti ricordi! Cioè, viene infilato nella tua testa a vita! Determinate tecniche vecchie, quelle che... Quelle che vendono a migliaia di euro, sono fatte per essere vendute agli studenti che devono superare gli esami. Quindi non sono tanto fatte per poter ottenere conoscenze e tenerle dentro di sé. Questa cosa qui mi ha sempre cruciato. Il fatto che poi l'universo mi abbia posto l'attenzione proprio su questo corso, mi ha fatto riflettere. Ho detto, ok, allora, se l'abbiamo dovuto togliere, ci sarà un motivo. Ci sarà un motivo perché probabilmente dobbiamo andare oltre. E così, come al solito, follow the flow, no? Segue il flusso, l'universo mi pone di fronte a questa... mi mette sotto l'attenzione questa cosa qui e mi son detto, vediamo un po', perché queste robe qui vengono insegnate da una vita. Io per primo uso altra roba. Io uso altro tipo di tecniche. Io leggo discretamente e velocemente. Chi mi vede legge, se io c'ho qualcuno vicino a me che legge, mentre sta lì a guardarsi la pagina, ho da uno sguardo, ok, poi mi faccio i miei cavoli, ho la speranza che rigiri pagina. Mi è capitato mentre ero in aereo. Una persona vicina con un libro, dà uno sguardo, ok, ho letto la pagina e poi aspettavo che lo girasse. Stavo lì nel frattempo a vedermi il film. Poi intanto rigiravo, ridavo uno sguardo, rileggevo la pagina e mi continuavo a vedere il film. Ma perché? Perché la mente è abituata con altre modalità, non quelle che sono state insegnate a scuola, neanche tanto quelle che vengono insegnate in quei corsi da migliaia di euro. Che, per un certo punto di vista, sono valide, noiose, ma valide. Ma se si aggiungono a tutte le altre conoscenze dopo PNL, tecnologie, nuove neuroscienze, nuove... diverse altre cose che conosciamo e che conosco, cavolo, viene fuori veramente una cosa pazzesca. Allora, io mi sono detto, ma porca Eva, ma se su Anaera vogliamo dare tutta questa conoscenza, credo sia opportuno che le conoscenze di base per poter leggere, apprendere, lavorare su quelle conoscenze, devono essere a monte, devono averle tutti, devono averle tutti. E, lo sapete, no? Il mio motto è sempre stato la conoscenza deve essere un diritto, non un privilegio. Quindi, non mi sembra il caso che sapere leggere in una determinata maniera, sapere apprendere in una determinata maniera, debba essere un privilegio di pochi che pagano magari migliaia di euro sui corsi, chissà dove, e non dato ai bambini, non dato a chi va a scuola. Allora, ho deciso. grazie appunto a questo evento che mi ha l'universo messo su un piatto d'argento, di proporre qualcosa di completamente nuovo. E ho girato da zero tutto quello che serve per poter portare il vostro livello di lettura e di apprendimento a dieci volte oltre quello in cui vi trovate adesso. E l'ho fatto in una determinata maniera, cioè proprio perché la conoscenza deve essere totale è stata fatta con passato, presente e futuro cioè tutte le tecniche del passato quelle che vi trovate in tutti i corsi da migliaia di euro trovate online ovunque tutto uguale sono sempre le stesse le trovate sui libri da 8 euro le trovate sui corsi da 50 da 100 da 1000 sono sempre le stesse trovate tutte quelle più quelle mie più quelle nuove più quelle legate alle neuroscienze più quelle legate al cervello emotivo più quelle legate alla commistione di cervello emotivo e razionale più quelle che legano le nuove tecnologie che legano i software che legano tutto quello che io faccio normalmente per le mie ricerche per i miei studi quello su cui lavoro quello che faccio tutti i giorni e allora mi sono detto ma cavolo se l'universo mi ha dato questo enorme spunto ma questa roba qui dobbiamo darla a tutti ma deve essere a tutti deve arrivare ai bambini deve arrivare agli scolari deve arrivare agli universitari deve arrivare ai grandi ai piccoli a chi vuole studiare a chi vuole conoscere a chi si vuole leggere tutti i libri che stanno su una era su amazon su ovunque e se li vuole leggere seriamente non come se si stesse sfogliando e poi si li dimentica il giorno dopo ma se li vuole leggere per studiare per capire per crescere per apprendere per metterli assieme ragazzi la vera conoscenza non è nel conoscere un libro ma è nell'ottenere mille spunti e poi metterli assieme i grandi scienziati hanno si a volte inventato ma spesso e volentieri hanno avuto intuizioni legando cose che già esistevano ricordatevi in uno dei miei flow precedenti io parlavo degli ingredienti della vita se avete solo 5 ingredienti i piatti che potete creare sono quelli sono sempre gli stessi sono quelli che ruotano attorno a quei 5 ma se voi imparate e ottenete 50 ingredienti la vostra scelta diventa immane quegli ingredienti li acquisite in libri in corsi ogni libro potrebbe darvi un ingrediente nuovo alcuni ve ne danno centinaia di ingredienti nuovi ovviamente se parliamo di libri di formazione non di libri di romanzi insomma a meno che non siano romanzi formativi perché poi ci sono romanzi motivazionali romanzi formativi vedete il mio autore per eccellenza Ogmandino o Tony Demeglio o Richard Buck che sono capolavori e sono romanzi sì parliamone sono romanzi come conversazioni con Dio cioè sono romanzi sì ok ma sono molto di più di romanzi quindi tutta questa roba qui deve essere a disposizione di tutti non può essere nascosta ancora all'interno di qualche settore strano di siti o di qualche corso a pagamento o di qualche cosa del gen deve essere a disposizione di tutti quindi quindi quello che vi ho creato amici miei per questo mio ritorno è per per aiutarvi come aiuto me stesso a avere sempre più conoscenze e quindi combattere l'ignoranza e combattere per modo di dire perché non è che è un nemico l'ignoranza per evitare di essere eccessivamente ignoranti oggi possiamo diventare meno ignoranti ogni giorno di più qualcuno mi chiede qual è il tuo obiettivo è diventare meno ignorante di ieri entro questa sera quindi io non vado a dormire se non ho imparato qualcosa di nuovo e per imparare qualcosa di nuovo devo sapere come fare devo avere le tecniche giuste tecniche che esistono da sempre tecniche che abbiamo creato tecniche nuove tecniche vecchie tecniche del passato presente e futuro disponibili per tutti il regalo che vi faccio adesso è il mio personale corso o meglio potrei dire master in lettura super veloce perché lettura veloce era troppo riduttivo e che effettivamente con quelle vecchie tecniche si si legge velocemente però ci sono cioè dai dobbiamo andare oltre dobbiamo andare veramente oltre dobbiamo essere in grado di settare la mente per ottenere le informazioni che gli servono all'istante quindi usare le tecniche quelle nuove quelle vere ma assieme a quelle vecchie diventa diventate dei mostri diventate veramente dei mostri ebbene un master ce l'ho fatta ci ho messo un botto di tempo sono 30 video una meditazione cos'altro un altro mini corso sacco di roba dentro ce l'ho fatta e abbiamo deciso amici miei di darlo completamente gratis perché questo deve essere visto da tutti condiviso a tutti deve arrivare ai bambini se avete se siete mamme se siete papà se avete bambini che cominciano ad andare a scuola e che cominciano a leggere e scrivere fateglieli vedere subito perché gli darà un vantaggio competitivo devastante rispetto agli studi con gli altri la scuola insegna arrivare fino a un certo punto e poi si ferma portateli oltre portateli a fargli diventare dei geni sin da subito fategli ingoiare libri sin da piccoli alla velocità della veramente molto più veloce di quello che può normalmente o meglio che normalmente si conosce e poi usate le nuove testate quelle che vi propongo fatelo fidatevi vi dirò già una cosa vi dirò già una cosa la prima è fatta da due parti la prima parte è data dal passato cioè quelle che vi danno a 1500 euro nei corsi in giro che trovate quella parte lì è noiosa ve lo dico già eh una altra e maroni perché è fatta tutto di coi punti così pammi poi c'è un sacco di cago ma fatela fatela perché per quanto noiosa per quanto potrebbe non essere estremamente divertente vi aiuterà di più dopo quando poi vi spiegherò le cose più fighe quando poi vi spiego le parti più veloci perché se avete addestrato la vostra mente perché è un vero e proprio addestramento è un addestramento di un mese e poi andate oltre quindi c'è un primo addestramento con la roba vecchia e poi ci si sposta nella roba nuova però se fate bene la roba vecchia la roba nuova vi sarà una roba spaziale ci sarà una roba spettacolare andate su lettura veloce punto gratis andate su lettura veloce punto gratis trovate la presentazione che ho fatto trovate i primi tre moduli ma in realtà poi quei primi tre moduli vi portano su una era dove scaricate tutto il resto quindi se siete già su una era scaricate tutto completamente abbiamo fatto questo sito per poterlo diffondere a tutti se state dentro una era se qualcuno conosce una era sa che può guadagnare con una era eccetera una cosa del genere vi dà un vantaggio di condivisione spaziale perché potete condividerlo nei gruppi di studenti nei gruppi di 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 universitari nei gruppi di bambini nei gruppi di studio nei gruppi di chiunque state dando un vero e proprio master che fuori costa una paccata di soldi gratis gratis completamente non c'è non c'è un sapere sei classico e qualcuno dice no ma c'è il secondo fine tu me vuoi no è grazie e poi basta non te voglio niente niente è tutto lì c'è lì dentro c'è un altro corso dentro c'è un altro corso ancora c'è è tutto dentro quindi divertitevi andate su una era scaricate tutto oppure se non sapete andate su lettura veloce.gratis e lì trovate il link diretto che poi vi porta su una era guardatevi la presentazione e se state dentro una era condividetelo condividetelo con il vostro link condividetelo con il vostro link affiliato fatelo girare perché darete veramente qualcosa di estremamente potente totalmente gratis e poi rischiate pure che guadagnate regalando questo è il bello di 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 una era non so io non ne parlo più di tanto perché una era può sembrare una roba commerciale che non c'entra niente con i flow una era è un è l'angelo della conoscenza una era vuol dire angelo è l'angelo della conoscenza quindi io mi rivolgo ad una era quando ho bisogno quindi all'angelo una era all'angelo della conoscenza quando ho bisogno di avere informazioni quando mi serve qualcosa vado su una era e la trovo e adesso che so leggere velocemente la leggo in un attimo comprendo quello che mi serve mi trovo le informazioni le stampo nella mia testa a vita e vado avanti grazie vado avanti più saggio di ieri e meno ignorante di ieri grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti